Musica Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo donati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera anatore con il Falkenbergs Come state signori? Spero che vada tutto bene Se vi siete persi l'episodio precedentemente andatelo a recuperare Mentre, oltre anzi a questo, ieri è uscito un nuovissimo video Una nuova serie dedicata ai nuovi talenti che potranno essere sul nuovo FIFA 22 Sulla carriera anatore del nuovo FIFA Andate a recuperare anche quello, mi raccomando Come potete notare, iniziamo il video sopra al nostro talento Sher Perché? Perché proprio su di lui, direte voi Non solo perché sta prendendo il posto da titolare e lo sta rubando ad ademi Anche perché nella realtà si è trasferito allo Spezia Quindi così, lo elogiamo per questo motivo Sono contento per lui, spero possa fare assolutamente bene Anche perché ademi comunque ha stoppato un po' la sua crescita E nonostante questo, anche se il suo piano di crescita era un po' sbagliato Ha comunque rallentato la sua crescita Un'altra cosa che vi volevo dire ragazzi è che Per quanto riguarda gli obiettivi, avrete notato che in questa prima metà dell'anno Non ho inserito obiettivi Semplicemente perché stiamo simulando molto, stiamo andando molto rapidi E volevo capire un attimo come organizzare Parliamone sotto nei commenti Perché dare degli obiettivi con le simulazioni è un pochettino più complicato O diamo degli obiettivi sulle simulazioni Se no fatemi sapere come fare Infatti questa partita contro l'Ebro la andremo a simulare ragazzi Ma sto registrando, sto facendo questa intro In realtà io pensavo di star registrando Ho registrato solo il gameplay E la mia webcam ha totalmente fallato Non è stata registrata Quindi la simulazione, io so già com'è andata Vinciamo Successivamente abbiamo la finale contro l'Amarby Una partita pazzesca Purtroppo le mie reazioni non le avete viste Non le vedrete perché non sono state registrate Ma era veramente un peccato Cancellare e rigiocarla Considerate che Non vi dico niente Non vi dico niente Vi lascio alle immagini Voi potete solo immaginarvele Le mie reazioni Ovviamente se dovessimo vincere la Coppa di Svezia Andremo a sbloccare una nazione Minore ma comunque andremo a sbloccare una nazione Tutto pronto dunque per questa finale di Coppa di Svezia Il Falkenbergs in campo con la titolare Con Cher che prende il posto di Ademi E Strannegord sulla destra Al posto di Abrams Alchi e fanno capire Chi vuole comandare In questa finale di Coppa Ed è Anstad a controllare il pallone A servire la Cher che verticalizza subito per Silesu Fai La sponda d'oro per Hansen Avanza Trova un varco E decide di rigiocarla a Silesu Fai Che con il destro da quella posizione Non può assolutamente sbagliare Tutto facile nei primi cinque minuti per il Falkenbergs Poi un blackout Totale Totale Selmani Per amo incontenibile sulla destra Col Mancino La piazzata Ma non è solo la questione del pareggio Perché un pareggio si può gestire È il vantaggio dell'Amerby Su calcio di rigore Rigore causato da questo fallo discutibile di Dalland È Selmani a incaricarsi della battuta Con il destro Purtroppo Spiazza Lep È 2 a 1 Amerby Grande prima punta questo Selmani Ci ha messo tantissimo in difficoltà E lo dimostra anche Quest'azione Con amo incontenibile Selmani Anticipa Burns E firma il 3 a 1 Per l'Amerby Ma non è finita qui Cerco subito di Di porre rimedio A questa A questo blackout Senza senso Dentro a Bramson E Karklins Ed è proprio Karklins A recuperare un ottimo pallone E riuscire a Giucare la Kate Cowell Che verticalizza per Silvio Sufai Che trova un varco Splendido per Hansen Che accorcia Ulteriormente le distanze Ed è tempo Di far entrare Il nostro diavolo Kaby Al posto di Silvio Sufai E' lui Che in questo momento Può fare la differenza Che in questi momenti Anzi Fa la differenza Ed è proprio Kaby A partire Nel pressing Per cercare di recuperare Il pallone Aiutato chiaramente da Hansen Bravissimo Hansen In interdizione Scambio Tra Hansen e Kaby Triangolazione chiusa Perfettamente Kaby può tirare Con il destro Non la gioca al centro Invece per Hansen Fortunatamente non è fuori gioco E' 3 a 3 Una partita pazza Davvero un peccato Che voi Non abbiate potuto vedere Le mie reazioni Perché Ero incontenibile Ero incontenibile Soprattutto In questo momento Soprattutto in questo momento Dove Selmani Mi buca un'altra volta 4 a 3 A 10 minuti dalla fine Ai 10 minuti dalla fine Cosa può succedere ancora? Può succedere che Non molliamo un centimetro Può succedere che Arnstad Verticalizzi in questa maniera Per Abramsen E Abramsen La giochi al centro per Kaby Che si fa trovare Prontissimo Liberissimo Per pareggiare Per questo 4 a 4 Finale Ora i supplementari Signori Bene Siamo i supplementari Non so se avete visto E avete potuto immaginare Forse Le mie reazioni A quello che è successo Cioè Totalmente fuori Di melone Quello che è successo In questa partita C'è contro l'Amarby Sempre delle bestemmie Andiamo a giocare I supplementari Quindi quello che succederà In questi minuti Sarà reactato Mi dispiace per il resto Ma non potevo lasciarlo Cancellato Non potevo Giocarlo un'altra volta Perché È stata una finale di coppa Davvero Senza un senso Dai che è nostro Bravo Facco Kate Vai Vai Kaby Vai Kaby Vai Kaby Vai Kaby Vai Kaby Non ce posso credere Bravo Burns Cosa hai fischiato Un pollo Oh madre mia Bravi Me la proteggi Hansen Te prego Grazie Burns Passa dal centro Kaby 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 La ne Il 5 a 4 Di Kaby La ne Oddio mio Oddio mio Oddio mio ragazzi Un parto 9 gol in una partita Ma voi ditemi se Ha un senso Bravissimo Ma ma che gol Signori No Sì 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 Eh ah La coppa La prossima volta La coppa La prossima volta Eh ah ma Su care La coppa La prossima volta Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Non posso crederci C'era da una delle partite Più complicate Che abbia giocato Giocato In questo fifa Dall'inizio dell'anno Santo cielo Finalmente possiamo alzare Sta tazza da colazione Che ci è mancata Da un po' Da un po' Facco Da quant'è che non alzi Un trofeo Facco Eh Finalmente Torniamo ad alzare Un trofeo Sembrava facilissimo Abbiamo sofferto Ce l'abbiamo fatta Eh Ale Senti che boato Bravi ragazzi Bravi bravi Un corno bravi Cioè bravi perché abbiamo reagito Ma porcaccio Porcaccio ragazzi Che fatica Che fatica Godo Sblocchiamo una nazione Parliamone Sotto nei commenti Quale nazione Sì hai ragione Vede Mi spiace davvero molto Non averti fatto giocare Ma Era un momento concitato Adesso abbiamo il Malmo È vero che il Malmo In questo momento È un po' lontanino In classifica Un po' lontanino Sono sei punti Questa contro il Malmo Me la vado a giocare Per poi andare a simulare Ostersen Mialbi E poi mi rigio Con l'Amarby Madonna mia Ce l'ho a morte Con l'Amarby Quindi Un po' di cambietti Arsad è stanco Quindi direi di nuovo Sher Facciamo giocare Borkit Perché se no Mi piange Stiamo così Andiamo in campo Sempre sul No 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 Aspetta un attimo Io mi dimentico sempre Di fare la panchina Io Kavi Me lo voglio portare Andiamo raga Dai Dai Con sta ripartenza Ma che Ma che cos'è Hansen Zio Scamorzato Con la buccia Ma cos'è Quella roba Ma io Boh veramente Cioè ma piuttosto Tirare la lunga Un sassone là In fondo al campo Cioè delle scurzate Così sul pallone Io non le posso accettare Da uno come te Vai Abramson Vai te Senti Non mi frega niente Vai te Vai te Vai te Vai te Vai te Vai te senza paura Proprio Se Se Bramson Non ti si schianta Addosso Niente Non riusciamo più A fare Porco Qualcuno mi deve fermare Qualcuno mi deve fermare Perché io voglio bene Ad Hansen Ma ve lo giuro Che per l'82 Che è A volte fa delle stronzate Tipo questa Bellissimo Bellissimo Questo scambio Dai Hansen Sì di fisico Se è andato Contro le critiche Contro le critiche Attenzione Bravo Dalland Grande chiusura Oh Borkit Bravo Dalland ancora Quando non c'è facchi neri Ci pensa lui Guardalo Ok Bellissima Dai Abramson Non mi deludere Almeno te Bella bomba 1-0 Vedete Se stiamo tranquilli Concentrati Si può fare Bravi 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 Facciamo entrare a Demi Dai al posto di Scher Ci sta Attenzione 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 Perché siamo solo 1-0 Ci pensa l'app A chiudere questo specchio Bravissimo Figlio mio Bravo Bravo Ancora ti prego Ancora Senza fallo Ragazzi Bravo Bravo Tutto sul pallone Gerzic Dai 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 Vai te 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 Chiudi la Bellissima A fuori gioco Ademi Ok per Hansen Gerzic Dai che vi meritate Di riprovarci Sì Non è possibile Brorson Vergognati Uolè Niente Riusciamo a mantenere Sto risultato Borkit Morente Borkit Morente Dagli una steccona Finita 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 Ok 1-0 L'importante È portarsela a casa Un po' di sofferenza Qua e là Mamma mia È stata molto intensa Però come partita Sembrava ci fossero più azioni Invece Pochissime Però io Mi è sembrato di Mi sembrava una guerra Offere da prestito Dragovic Sì ci sto È diventato un 70 Incredibile ragazzi L'ho provato in game Nello scorso video Ma non è che mi abbia fatto Impazzire più di tanto Vi dico la verità Siamo fuori casa Allora io direi Che possiamo far giocare Il king Vero che la lucidità Non è Molto Alta Vediamo così Dai Simuliamo Sì Abramsen e Gerzic 2-1 Quindi Entriamo Con entrambi i piedi In giugno Contro il Mialbi E direi che è anche qua Ok Ci abbiamo degli aggiornamenti Kvitvatvovic Draskovic Petrovic Draskovic Niente Questa è sempre l'offerta A posto Contro il Mialbi Che è sedicesimo Direi che possiamo andare Di nuovo a simulare Rischierei qualcosina di più Rischierei qualcosina di più oggi Vai Facciamo giocare magari Chi gioca un pochettino meno A Demi oggi Titolare Mettiamo Borkit Sì va bene E Blomquist Vai Speriamo Vai ragazzi Non ci credo Cavolo ragazzi 5 tiri Non siamo riusciti a fare un gol Contro il Mialbi Sedicesimo in classifica Vedete La simulazione porta anche a questo La simulazione porta anche a questo Non so come Leggerla questa sconfitta Cioè abbiamo rischiato qualcosina È che abbiamo rischiato chissà quanto Accordo per il prestito per Dragovic Quindi va direto al Galatasaray Abbiamo un altro aggiornamento Erwin Marti 4 milioni Ha già 18 anni purtroppo Schwarz Sì non è male ma Messerli No E Schmitz Vedete Un trequartista 18 anni 67 E vale 4 milioni ragazzi Abbiamo l'Ammarby Ok fortunatamente in classifica Le cose rimangono un pochettino Tali Andiamo così signori Sempre sul pezzo Forza Falkenbergs Bella Non è fuori gioco vero Tycade Madre Santa Yahoo Yahoo Kay Cowell Direttamente Dall'America Sopra il suo destriero Yahoo 1 a 0 E quando si segna contro l'Ammarby È sempre una gran goduria Bel gol Bel gol Bel gol Chissà forse vincerà il gol Della Della prima metà di stagione Bravo Kay Eh qua si sono addormentati Si sono addormentati Boom Ah puoi solo guardarla Puoi solo Puoi solo guardarla 2 a 0 Kay Cowell Sì Gran palla recuperata Dai adesso chiudiamola E facciamo giocare magari Chi gioca un pochettino meno Sempre però concentratissimi Mi spiace perché adesso Non riesco più a far segnare Se li su fai Era Buon Non dico buon punto Per Diventare capo cannoniere Ma Dai che l'abbiamo recuperata di nuovo Senza fare lo secondo direttore di gara Se li su fai Palla per Kay Cowell In qualche modo gli arriva Eccolo forse per Ma che passaggio è Kay Vabbè No ma ma cosa ho appena visto Ma pensavo fosse uscita Tripletta e 25 in 1 Ma che cos'è Ma che cos'è Ma guardate Ma che passaggio è poi Ma io sono senza parola No Possiamo Godo Stragodo di nuovo Bravo l'app Madonna io quanto vorrei Dargli una stecca E quanto vorrei Che sentissero male davvero Ve lo giuro Dammi sta palla Fammi ricredere Ecco Si è spaccato un'altra volta No Arsat Boom Ma oggi entrano tutte Oggi entrano tutte Mannaggia 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 Mi avete fatto venire Il sangue cattivo Non in coppa Eh ma è questo È questo il vero Forse Livello E a questo punto Mi viene da ripensare Anche alla simulazione Prima contro Il Mialbi Siamo A un livello Superiore Ragazzi Siamo a un livello Superiore Non ci sono Assolutamente Dubbi Io Faccio Già dei cambi Ma Vado a Simulare Tutto Iagerzy Ce lo sta prendendo Che il cavolo Porca paletta Vediamo come può finire 4 a 4 Ve lo immaginate Si è fatto male Borkit Va bene ragazzi Oggi l'episodio È andato È andato bello rapido Devo dire Simulare In questo momento Secondo me ci sta Con 6 mesi Borkit Stavo dicendo Simulare Così Secondo me Ci può anche stare L'unica cosa È che voglio Tenere Sotto controllo Il campionato Cioè io quest'anno Il campionato Lo voglio vincere Simulando E giocando I prossimi anni Ho pensato Che secondo me La cosa migliore da fare È andarsi a giocare Solamente la Champions Cioè il mio obiettivo Sarebbe quello Di portarmi la casa La Champions League Con questa squadra Vi dico la verità Per poi Magari cambiare squadra E fare qualcosa Di molto più rapido Con un'altra squadra Più forte Cioè questo è il mio vero obiettivo Io sinceramente Ci terrei a far alzare Qualcosa di importante A questi giocatori La strada Visto quello che abbiamo fatto Quest'anno Potrebbe non essere Così lontana Come se fosse una Four years Ma poi La Champions in realtà Ce l'andiamo a giocare Tutta quanta Ecco Sapete che io L'Happings Quasi quasi Lo vado a richiamare Visto che Visto che mi si è fatto male Borkit Mi può fare il mediano Il cc Sì dai lo richiamo Bene ragazzuoli Dai Direi che ci possiamo Salutare qui Non credo Faremo Molti colpi Però Magari Se trovo un'occasione Why not Signori Noi ci vediamo al prossimo video Se non vi piace Commento così Alla prossima Ciao a tutti ragazzi